e allora tutto è pronto, si comincia dicevamo della settimana tormentata che ha vissuto la squadra calenzanese e anche il numero 10, vediamo un po' chi parte, va proprio Niedu, la battuta verso la porta e Salvi mette in calcio d'angolo e salgono anche le torri del Calenzano, Facchini e Fattori, parte Marchiseppe della barriera poi ci riprova, però Mecchieto termina alto, Giuntini, Marchiseppe adesso il capitano Aldrovandi, Aldrovandi va alla conclusione, in porta palla che termina di poco fuori, la grande chance per il capitano Francesco Aldrovandi il punto di battuta è già pronto, Aldrovandi il capitano parte il corner dentro di testa, Sar sulla linea rete il gol del Calenzano ha segnato Marchiseppe, Jack Marchiseppe, proprio lui è avanti, la squadra Rossobu è avanti, il Leone è dato, è avanti il Calenzano, il nuovo mister Roberto D'Annibale finisce tra le braccia di Bolognesi, non c'è più tempo temi al primo tempo, Calenzano 1, Forgormaglia 0 adesso un break e poi il nuovo qui per i secondi, 45 minuti e adesso vedremo se in questo secondo tempo ci sarà la reazione della Forgormaglia partiti adesso, il calone che esce allora la rimessa è ancora per il Calenzano Giuntini, attenzione Giuntini, zona cross, pallone deviato, palla corna ancora nella parte di Sar dentro di testa, rete, il gol è regolare, tutto buono, il Calenzano si porta sul 2 a 0 segna lui, Papa Sar, il senegalese, l'ex del lanciotto e adesso il Calenzano è avanti, 2 a 0 19 sul cronometro, Calenzano 2, Forgormaglia 0 Aldo Rambi lo spiovente dentro, va a cercare ancora Sar che svetta di testa c'è il gol, e c'è il gol del Calenzano, la doppietta di Sar Calenzano 3, Forgormaglia 0, ancora Sar, ancora il senegalese Picchi al centro, questo Pistresi, ancora per Cecciarini, attenzione Della Maggiora tiro rete, Della Maggiora torna in partita la Forgormaglia e lo fa al minuto 27, grazie al gol di Della Maggiora attenzione, confusione in area di rigore, pallone che resta lì, deve allontanare Facchini, lo fa in maniera confusionale, poi Salvi Parata strepitosa di Salvi, fattori ancora, poi Sar, non c'è più tempo termina qui, torna al successo il Calenzano, dopo un periodo davvero negativo Calenzano 3, Forgormaglia 1